Volete sapere come ho realizzato le decorazioni per questa torta in un modo molto furbo e veloce? Allora, siete nel video giusto! Ciao a tutti, io sono Maria, benvenuti sul mio canale Passione Creativa o Bentornati. Oggi volevo farvi vedere le decorazioni che ho preparato per il compleanno del mio bambino. Questo è il mio progetto, molto dettagliato, bellissimo. Gli altri anni ho sempre preparato le torte con la pasta di zucchero. Quest'anno invece, dato che il tema è Lego Ninjago e onestamente non avevo voglia di impazzire, ho trovato una soluzione molto più rapida, torta su due piani, banner da attaccare al tavolo con la scritta Uri. Scaricato delle immagini tema Ninjago e mi sono creata tutte le decorazioni. Essendo carta, per risolvere il problema a contatto panna, ho plastificato ed ho ritagliato il tutto distanziato, in modo che anche a contatto con la panna, con l'umidità del frigorifero, non succede nulla né alla decorazione né anche alla torta stessa. Questo è il top, alla quale devo incollare gli spiedini, per intenderci, con questo sistema qui, molto semplice, con il nastro adesivo, in modo da poterlo infilare nel pan di spagna, il top. Secondo strato ci saranno alcuni dei personaggi, quelli preferiti del mio bimbo. Tema blu perché... e come può mancare il blu? E la base invece ci sarà la scritta Ninjago. Questa ad esempio la attaccherò direttamente alla panna, ce la farà benissimo, è leggerissimo sto dischetto. Qui ho lasciato un bordo maggiore per evitare problemi e poi completerò il resto del perimetro con questi. Il banner del tavolo, questo me lo sono creato io, prendendo ispirazione, roba trovata in giro per il web. Ho creato il tutto con Inkscape, gli occhi ho scaricato, anche lì ho trovato qualcosa in giro nel web, me lo sono ritagliato e poi ho composto il tutto e quindi formando la scritta auguri, anche questo plastificato. Per la scuola invece ho optato per i lecca-lecca, vista la questione covid, che ho praticamente confezionato così. È una striscia di cartone di 13,5 cm per 3,5 cm, alla quale ho fatto delle pieghe. E alla fine per far sì che si apra e chiuda senza strappare, ho applicato questa fustellata, che sono delle graffette di carta, in modo che così volendo i bambini poi possono tranquillamente giocarci. E poi invece per le maestre, semplice scatolina in perfetto stile junk journal, quindi tutto materiale di recupero, 5x5x6, chiuse soltanto per due lati e all'interno ci sono delle caramelle, in modo da rimanere sempre tema caramelloso diciamo. Penso che questa sia un'ottima soluzione per chi come me non ha voglia di impazzire nelle decorazioni, o semplicemente per chi non ha tempo, non ha manualità in determinate cose, anche perché un soggetto del genere è bello complesso. In questo modo con una stampante, oppure se non l'avete scaricate i file, preparatevi il tutto, andate in un'edicola, vi fate stampare le immagini, ritagliate, classificate, ritagliate nuovamente un pezzettino di scotch, uno stuzzicadente e abbiamo così fatto le decorazioni. Spero che questa idea vi sia piaciuta, possa essere di vostra ispirazione, per qualsiasi dubbio scrivetemi tranquillamente nei commenti. Se il video vi è piaciuto, pollice in su, iscrivetevi al mio canale e un abbraccio a tutti voi, ciao!